Raccontare la cultura enogastronomica abruzzese e le relative produzioni di eccellenza. È il percorso tracciato dall'assessore alle politiche agricole Dino Pepe in vista di Terra Madre, Salone del Gusto 2016, in programma a Torino dal 22 al 26 settembre, dove la Regione Abruzzo sarà rappresentata con 16 presidi slow food, di cui oltre la metà parteciperanno per la prima volta all'evento e con 11 espositori tra comunità del cibo, consorzi e associazioni di produttori e distretti rurali. Un gruppo così nutrito di produttori e di prodotti della più autentica tradizione enogastronomica della nostra Regione non è stato mai presente a Torino in nessuna delle dieci precedenti edizioni. ha esordito l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe. La partecipazione della Regione Abruzzo è particolarmente significativa e rappresenta per il nostro territorio un ulteriore passo avanti nel percorso volto a valorizzare la biodiversità e le piccole produzioni locali, ha osservato ancora Pepe, oltre che un momento fondamentale nella promozione delle eccellenze agroalimentari abruzzesi in un contesto internazionale come quello del Salone del Gusto. Parteciperà per la prima volta anche un distretto rurale Terre Vestine delle Saline del Gran Sasso che metterà in mostra le peculiarità rurali del territorio vestino. Lo stand abruzzese ospiterà inoltre il Consorzio del Pecorino Amatriciano dei Monti della Laga in segno di solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso. Ora parola all'assessore alle politiche agricole Dino Pepe. Assessore Dino Pepe, l'Abruzzo protagonista nell'edizione 2016 del Salone del Gusto di Torino. L'Abruzzo sarà assolutamente protagonista quest'anno al Salone del Gusto dal 22 al 26 prossimo. Quest'anno il Salone del Gusto si svolgerà all'interno del Centro Storico di Torino e l'Abruzzo sarà presente con 16 presidi e 11 comunità del cibo. Importante è la promozione del tessuto produttivo e rurale della regione. Noi dobbiamo raccontare il nostro territorio attraverso l'enogastronomia, attraverso i nostri prodotti enogastronomici. Saremo presenti con forza attraverso le comunità del cibo, i presidi, attraverso i nostri produttori che riescono a raccontare al mondo intero le qualità dell'Abruzzo e la biodiversità abruzzese. Per la prima volta c'è anche il distretto rurale Terre Vestine. Questa è una novità assoluta. Quest'anno ospiteremo il primo distretto rurale abruzzese, quello delle Terre Vestine. Un'esperienza che è nata qualche anno fa e adesso si sta concretizzando anche attraverso queste fasi importanti di promozione. Poi ospiteremo in maniera totalmente gratuita il consorzio della Matriciano, un consorzio che ha subito dei danni enormi post-sisma e noi le accoglieremo all'interno della comunità abruzzese per promuovere il pecorino matriciano. Un'altra iniziativa del Gal Terre Aquilane, del quale è Presidente Rocco Giancarlo Di Micco. Questa volta si parla della presentazione di un libro, il libro di Pasquale Ferrara. Il titolo è emblematico, Il mondo di Francesco, e Francesco non è altri che Papa Bergoglio. Allora Rocco Di Micco è anche consigliere comunale, lo conosciamo benissimo. Una iniziativa importante, soprattutto in questo periodo particolare per la pace nel mondo. Il Papa Francesco continua a predicare pace, ma non sempre la politica gli va dietro e gli da retta. Allora, il significato, il valore di questo libro e di questa cerimonia in particolare? Allora, il significato di questo libro è chiaro, è l'interesse nei riguardi della pace da parte di Papa Francesco, ma soprattutto verso il mondo politico, il messaggio che il Papa sta cercando di mandare al mondo politico, facendo politica per la prima volta. È il Papa che riesce a fare politica e a dialogare con i grandi del mondo. Mi ha colpito un discorso che ha fatto l'8 settembre ad Assisi, quando ha detto che bisogna diventare artigiani della pace. Gli artigiani della pace, io mi rispecchio molto in questo, perché sono un artigiano. Nasco come piccolo imprenditore edile e ancora oggi è una piccola impresa di narizia edile. Quindi mi rispecchia questo modo di pensare, perché è vero, bisogna partire dalle piccole cose. Innanzitutto andare d'accordo col dirimpettaio del pianerottolo, perché parlare dei massimi sistemi e poi non potersi vedere tra vicini di casa, insomma, è ridicola come cosa. Quindi mi piace molto l'approccio che ha Papa Francesco. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di conoscere questo signore, che è Pasquale Ferrara, che è un diplomatico, è l'ambasciatore che andrà in Algeria. Il 3 ottobre si insiederà in Algeria. Noi l'abbiamo invitato per la presentazione di questo libro, perché è importante come evento, come dicevi tu, perché oggi si ragiona di pace in questo clima così incerto, così pericoloso, così brutto anche dal punto di vista della sicurezza dei cittadini. Per cui è giusto iniziare a parlare di pace, è giusto parlarne sempre più spesso. Però l'abbiamo invitato anche perché lui è l'ambasciatore di Algeria e in Algeria, l'ambasciatore italiano in Algeria. Perché? Perché il GAL Terre Aquilane ha iniziato da diversi anni dei rapporti di internazionalizzazione proprio con l'Algeria, un paese che ha quadruplicato negli ultimi anni il proprio PIL interno, quindi il prodotto interno lordo, che ha un tasso di indebitamento con l'estero pari all'11%, a differenza dell'Italia. Quindi è un paese in piena crescita, in pieno sviluppo. Noi vorremmo portare le nostre aziende a portare i nostri prodotti là. Il prodotto italiano è un prodotto che ha un brand positivo, cioè è molto appetibile, è molto richiesto. Immaginiamo i tartufi, immaginiamo i funghi porcini, immaginiamo i prodotti tipici nel nostro territorio. Siccome il GAL per vocazione fa questo, noi questo vorremmo fare. E abbiamo già iniziato, come dicevo, abbiamo aperto un'associazione che si chiama Maison Mattei, in onore di Mattei, di Enrico Mattei, che è un personaggio emblematico degli anni 60, che ha rivoluzionato il modo di gestire l'idrocarburi, cioè tutto ciò che girava e che era a pannaggio di pochi dell'oligarchia delle Sette Sorelle, sostanzialmente, fondando l'ENI, quel colosso che oggi ancora è vanto in parte italiano, ma che nasce proprio dall'idea di Mattei. Infatti oggi, ti dico questo in anteprima, perché non lo sa nessuno, ma è una piccola sorpresa, intitoleremo la sala del Gallo, questa di sviluppo Italia, proprio a Enrico Mattei, e sarà uno dei primi atti che viene fatto nei riguardi di questo personaggio che ha origini marsicane, la famigliare di Civitella Roveto, e quindi ci sembrava un tributo più che giusto, tenendo presente poi anche dei rapporti che Enrico Mattei aveva introdotto con l'Algeria, con l'importazione del gas, che è uno dei prodotti principi dell'Algeria. E quindi faremo anche questo, ma faremo anche una cosa un po' particolare, e proietteremo un inedito, un'intervista di Ignazio Silone, altro celeberrimo, nostro paesano, se si può dire così, marzicano doc, che ci è stato portato dal pronipote di Romolo Tranquilli, che appunto anche lui si chiama Romolo Tranquilli. Insomma, una serata densa di eventi e di avvenimenti, il tutto è mirato a proporre in chiave diversa la nostra marzicanità, a cercare di espandere quello che siamo noi verso altri paesi, in questo caso l'Algeria, ma anche verso altre situazioni che possono essere, risultare positive per i nostri imprenditori e per i nostri produttori di prodotti tipici. il tuo punto di vista, il punto di vista però del politico, quello mi interessa, perché tu fai politica, oggi c'è uno scontro fra il mondo occidentale e quello orientale e quello anche dei paesi musulmani, africani in particolare, ci si scontra quotidianamente, scontro di idee, di vedute, di tutto, pensi che ci sia la possibilità prima o poi di addivenire ad un vivere comune tranquillo, più o meno tranquillo, che possa finire un giorno questa lotta fratricida e che possano finire questi attentati e tutto quello che di negativo c'è. Guardi, al di là del fatto dell'opinione politica, da essere umano io mi auspico e spero ferventemente che questa sia una cosa che sia, come dire, auspicabile per tutti, per i nostri figli, per i nostri nipoti, perché il mondo è di tutti, cioè in realtà dovremmo iniziare a ragionare come abitanti di questa palla di fango che è la terra e non siamo passati dal campanilismo al nazionalismo, siamo passati attraverso varie fasi che ci hanno caratterizzato, che hanno portato guerre, che hanno portato carestie, che hanno portato varie fasi in cui l'umanità ha toccato il fondo. Noi immagino che dovremmo, come dice il Papa, oggi cercare di fare un ragionamento di fratellanza indipendentemente dalla religione, indipendentemente dal credo che è una cosa intima e personale ma che non dovrebbe condizionare la vita sociale di nessuno, né tantomeno la vita politica e economica di vari paesi. Dovremmo essere, è auspicabile che si faccia un ragionamento libertario che coinvolga tutti ma soprattutto che porti il benessere anche in quei paesi che oggi hanno difficoltà anche a mangiare. Perché io penso che se risolvessimo il problema della fama nel mondo probabilmente risolveremo alla radice anche mille problemi che sono poi sfociano in questa violenza gratuita che è generalizzata e che non ha più nemmeno un volto e che viene fatta verso gli innocenti perché gli attentati sono del tutto gratuiti sono azioni vigliacche da un certo punto di vista perché non hanno l'obiettivo di colpire un responsabile di qualcosa ma solo di seminare terrore di fatti sono azioni terroristiche questo dovrebbe cessare ma cessare eliminando alla radice del problema secondo me ed ecco l'ospite d'onore di questa serata è Pasquale Ferrara autore del libro che viene presentato questa sera ma soprattutto ambasciatore dell'Italia in Algeria quindi un breve riassunto del libro ma io vorrei che lei ponesse l'accento su quello che va a fare in Algeria perché oggi è un momento particolare nella politica mondiale c'è questo scontro fra Islam e Cattolicesimo e non soltanto allora due parole su questo libro due parole nei limiti del possibile sostanzialmente le due realtà sono un po' collegate cioè perché l'idea di questo libro nasce da una constatazione cioè abbiamo un Papa che si muove nella direzione del dialogo nella direzione dell'apertura e va lui a cercare chi sta nelle periferie va lui a diciamo tentare di riannodare dei legami che sembrano compromessi e oggi ovviamente il grande tema è il rapporto con il mondo arabo-islamico e il Papa diciamo da questo punto di vista ha fatto delle aperture molto chiare molto precise ma anche molto realistiche cioè non è un utopista è una persona che crede che con i piccoli gesti con la collaborazione in tanti settori si può creare una condizione di collaborazione nella direzione della pace l'Algeria è un paese strategico non solo per l'Italia ma per il Mediterraneo per la stabilità la sicurezza nel Mediterraneo però io credo che non possiamo limitare la considerazione di questo paese solamente a questi ambiti esiste una comune cultura mediterranea che condividiamo e che dovremmo riscoprire in un modo più creativo non esiste diciamo una sponda nord e una sponda sud esiste un essere mediterraneo insieme esiste una cultura che chiamerei meridiana che ci spinge verso il dialogo e che ci spinge a guardare al futuro quindi ci sono stati problemi ci sono problemi oggi ma io credo che dovremmo lavorare verso il futuro anche con un paese che è fatto in gran parte di giovani ricordiamo che più del 70% della popolazione algerina ha meno di 30 anni e questo è una sfida ma è anche un'opportunità con che spirito va in Algeria considerati i tempi innanzitutto un senso di grande responsabilità e soprattutto essere consapevole di rappresentare un paese come l'Italia con una storia millenaria e di rappresentare un paese intero quindi certamente il governo ma anche diciamo tutte le forze sociali le forze vive le forze della cultura del nostro paese io cercherò semplicemente di essere un ponte di mettere in dialogo le realtà algerine del mondo sociale del mondo culturale con quelle italiane perché io credo che la cultura è lo sfondo imprescindibile su cui poi possiamo costruire una nuova storia anche in termini di sicurezza anche in termini di sviluppo economico quindi la cultura è un punto di riferimento fondamentale sarà uno dei capisaldi della mia missione dispositivi per emergenze in ciascuna stanza bagni risistemati con aggiunta di nuovi servizi igienici per diversamente abili spazio ad hoc per incontri tra medici e familiari dei ricoverati ambiente per la re-reps e sala d'aspetto completa ritinteggiatura delle pareti sala briefing per operatori sanitari e realizzazione di contosoffittature questo in sintesi il restyling della chirurgia generale dell'ospedale di Avezzano che con questo nuovo assetto si appresta a migliorare la già elevata quota di mobilità attiva 25% che va andata verso regioni vicine come Lazio e Campania questa mattina c'è stata la cerimonia di inaugurazione dei locali ristrutturati alla presenza tra gli altri del manager dell'ASL Rinaldo Torodera del sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio del direttore sanitario di presidio Laura Cipollone del direttore di dipartimento chirurgico dottor Giovanni De Blasis e naturalmente del primario del reparto il dottor Di Stefano oltre a numerosi medici i lavori di ristrutturazione iniziati a metà luglio hanno dato una svolta al reparto situato al quarto piano migliorandolo nettamente come qualità ricettiva rendendolo più fruibile agli utenti con una più adeguata organizzazione logistica la ristrutturazione è costata circa 120 mila euro ed è terminata il 23 settembre scorso l'attività chirurgica spostata temporaneamente al quinto piano durante l'esecuzione dei lavori riprenderà a giorni il suo posto al quarto piano con la piena disponibilità dei 20 posti letto assegnati tra le migliorie da segnalare quella dei servizi igienici ristrutturati nell'esistente e con nuovi spazi per i diversamente abili dotati di nuovi arredi altro fatto nuovo la installazione di impianti di apparecchiature situati in ciascuna stanza di degenza da utilizzare in caso di emergenza con la modifica degli spazi interni si è proceduto all'allestimento oltre che della reception di una sala d'aspetto e all'introduzione di un apposito ambiente in cui far incontrare i familiari dei degenti e personale medico nell'ora delle novità c'è anche una sala briefing riservata appositamente ai medici da utilizzare per la migliore pianificazione del lavoro gli stessi lavori eseguiti ha detto il manager della AS Tordera servono a migliorare in modo netto la qualità alberghiera a beneficio delle persone ricoverate e da introdurre condizioni di lavoro più favorevoli per il personale soddisfatto anche il sindaco di Pangrazio gli interventi effettuati sui locali ha affermato sono importanti perché oltre alle migliorie strutturali alzano lo standard di igiene e di sicurezza dell'attività chirurgica la caposanto nella Buffone ha avuto modo di rappresentare l'impegno di tutti nell'assistenza medici, infermieri ed operatori sanitari specificando che oggi con il reparto interamente ristrutturato si raggiungono due grandi obiettivi servizi ed ambiente dignitoso a tutela del benessere per l'utenza realizzazione di spazi necessari all'attuazione di pratiche assistenziali standard e specifiche del settore chirurgico corrispondenti a quelle dimostrate efficaci ed efficienti ora spazio alle interviste direttore guardando in prospettiva in che contesto si inserisce questa ristrutturazione in un contesto di miglioramento e della qualità alberghiera ma anche della possibilità per loro di lavorare meglio in ambienti più moderni anche se sono gli stessi ancora nel vecchio ospedale con una razionalizzazione degli spazi migliori indubbiamente adesso il dottor Di Stefano mi faceva vedere alcune accortezze che sono tipicamente operative legate alla professione al rispetto della sensibilità dei pazienti quindi le cose che contano sono queste si può sempre fare meglio ma credo che questo era il massimo che potessimo fare l'aspetto alberghiera è importantissimo qui grosso modo è stato sistemato ci sono altri reparti che lo aspettano in prospettiva si può pensare all'effettiva realizzazione del nuovo ospedale sì sì assolutamente sì infatti dobbiamo fare in modo che nel più breve tempo possibile si realizzino le procedure amministrative il contratto di programma voi lo sapete che la regione ci sta già lavorando e quindi noi daremo il massimo della nostra disponibilità e collaborazione per fare in modo che le cose si risolvano rapidamente certo qualche anno passerà perché fare un nuovo ospedale è una cosa complessa però nel frattempo abbiamo messo a posto la chirurgia che è uno degli elementi di traino di un ospedale perché la chirurgia quando ci sono i bravi chirurghi ad Avezzano ci sono fa mobilità attiva attrae pazienti anche dall'esterno e quindi aiuta la nostra azienda ad affrontare meglio questi cambiamenti che sono in corso bene per quanto riguarda questo aspetto però non posso non farle qualche domanda sui recenti avvenimenti cioè mi riferisco ha già avuto modo di esprimere il suo parere sull'assenteismo sulla neurochirurgia ci può dire qualche cosa vabbè sono questioni sulle quali è evidente che un manager di un asle di questi tempi non può fare a meno di fare la rimozione delle sacche di inefficienza ritengo che sia un dovere questo non vuol dire colpevolizzare nessuno però vuol dire che noi e me io in particolare devo assolutamente cercare di capire dove si possono recuperare risorse questo è il tema dominante e lì noi ci vogliamo ci voglio vedere chiaro voglio essere sicuro che tutti cerchino di lavorare il più possibile per essere più efficienti e più efficaci sono parole che si dicono sempre però non dimentichiamo che la sanità avruzzese è uscita dal commissariamento quindi dal primo di ottobre navigheremo soltanto con le nostre forze e quindi ho un dovere della direzione aziendale fare in modo che la produttività delle persone sia la massima possibile Dottor Di Stefano mi sembra che siete pronti anche per delle esperienze nuove nel vostro reparto sì dunque intanto io devo ringraziare il direttore generale e il sindaco perché li ho tormentati per anni per ottenere questo e questo era il massimo che si poteva ottenere con i soldi che la azienda ha e quindi io li ringrazio ma non è che li ringrazio li ringraziano i pazienti perché la situazione era disastrosa noi abbiamo una concorrenza con il privato Vedi Villa Letizia che ha un albergo a 5 stelle quindi questo è fondamentale ma poi è fondamentale quello che dobbiamo fare pure noi nel senso che adesso partiremo con una tecnica innovativa assolutamente che è la tecnica della fluorescenza noi facciamo i tumori in laparoscopia i tumori del colon in laparoscopia dello stomaco questi qua con la fluorescenza permetteranno di vedere alcune cose che non si potevano vedere prima cioè soprattutto la vascularizzazione l'uretere le vie biliari e sono una tecnica veramente all'avanguardia che sta soltanto in 4-5 ospedali in Italia quindi il 17 di febbraio faremo un congresso con il presidente della società italiana di chirurgia faremo gli interventi in diretta per mostrare quello che facciamo qui in ospedale perché noi abbiamo il 25% di mobilità attiva che è tantissimo il direttore lo sa è qui e quindi vogliamo anche comunicare ai marsicani le innovazioni che si fanno qui le cose che sono cambiate ecco Sindaco il manager non è che è andato oltre certe aspettative cioè non si è espresso molto su aspetti che riguardano la sanità in particolare la neochirurgia e la sentesima ma noi oggi stiamo inaugurando un reparto che è un reparto che ha risolto il problema dell'igienicità l'igienicità in chirurgia era un fatto importantissimo perché qua si fanno le operazioni e devono essere garantiti i servizi minimi non solo minimi ma il massimo servizio per dare ai pazienti perché sulla vita delle persone non ci si scherza quindi oggi abbiamo fatto un piccolo passetto passetti ne stiamo facendo oggi mi sono appena informato e mi hanno garantito che stanno valutando il terzo emodinamista spero che questa volta non ci siano di nuovo fughe indietro perché sono tre volte questa è la terza volta che si lavora per l'emodinamica voglio l'emodinamica H24 ma non io Gianni Di Pangrazi lo vuole la Marsica perché è un servizio salva vita e non faremo sconti quindi mi rivolgo a chi ha la responsabilità di chiudere questa partita e mette il terzo emodinamista fisso H24 il servizio con operatori che siano tranquilli e non facciano poi servizi o lavori talmente pesanti che talmente tante ore che poi dopo toccare il cuore non è semplice per quanto riguarda invece una cosa importante è quella del nuovo ospedale il tavolo tecnico a Roma tra Regione e Ministero della Salute ormai è arrivato alla conclusione fuori dal commissariamento ormai ci siamo Avezzano ha già individuato l'area si deve fare presto perché quegli 80 milioni di euro messi a disposizione devono essere utilizzati noi mettiamo a disposizione tutte le nostre professionalità la Regione avrà il diritto dovere di avere la progettazione e la realizzazione dell'opera però dobbiamo fare presto quindi Ministero facciamo un passo in avanti muoviamoci perché è importante che si vada su questa direzione visto che è partito in quarta neurochirurgia neurochirurgia noi vogliamo che ci sia l'apertura di un del reparto perché copra H24 quindi che ci sia un medico presente qui per assicurare non solo l'accoglienza dell'emergenza ma per dare spazio a tutti gli altri servizi che sono collegati con neurochirurgia e abbiamo l'eccellenza a livello regionale faccio i nomi del dottor Passalacqua e del dottor Carolei che hanno bisogno comunque dell'apertura di un medico presente H24 questo è quello che chiediamo poi se la direzione deve rimanere all'Aquila ben venga ma il servizio deve essere coperto H24 qua da Avezzano Gianni Corbi Vittoriano Esposito e Romolo Liberale tre nomi che hanno dato tanto alla cultura marsicana e giustamente oggi con una cerimonia particolare il comune intende ricordare queste tre figure e dedicare a loro una targa noi siamo con l'assessore Alessandra Cerone una cerimonia importante per tre personaggi importanti è importante per questi tre personaggi ma è importante per la nostra città è già da un anno che perseguiamo l'idea di creare un museo a cielo aperto un museo che è insediato in uno dei luoghi più emblematici della nostra città Piazza Torlonia dove non esponiamo degli oggetti delle opere d'arte esponiamo le idee esponiamo la nobiltà di questi personaggi e vogliamo dire ai ragazzi prendete esempio da questi cittadini onorevoli che hanno fatto crescere la nostra città e che hanno dato un impulso portando il nome di Avezzano nella nazione intera quindi è stato un ripensamento complessivo della toponomastica di individuare in una città che aveva perduto i suoi riferimenti in quella terribile alba del 1915 dire cominciamo a ricostruire la nostra memoria e la nostra memoria inizia proprio da qui da questi tre personaggi così importanti che nel momento in cui questi bei ragazzi che oggi riempiono e affollano la sala e devo dire che con l'entusiasmo dei presidi sono venuti a sentire di cosa parleremo questi ragazzi potranno ricordare e spero prendere esempio da queste persone così per bene e la targa verrà svelata a piazza d'Orlonia un altro luogo simbolo della avezzanesità e della marsicanità sì abbiamo individuato tre slarghi all'interno di piazza d'Orlonia il primo è questo a nord di fronte al palazzo d'Orlonia che abbiamo intitolato a Vittoriano Esposito l'area tra via Roma e via appunto di piazza d'Orlonia a angolo via Roma è dedicata a Romolo Liberale come ci ha richiesto Mirca la moglie e il lato sud a Gianni Corbi che abitava a pochissimi metri da lì perché c'è Villa Corbi appunto in quell'area Sergio Natalia è uno dei tre relatori per lui ci dirà qualcosa su Romolo Liberale una grande figura al di là delle convinzioni politiche ognuno possa avere Romolo Liberale ha lasciato una traccia importante qui in questa zona io penso che ha lasciato una traccia indelebile nella storia marsicana perché Romolo Liberale pur avendo scelto una parte politica si è sempre caratterizzato per pacatezza nei comportamenti persona di grande apertura al dialogo persona che ascoltava molto ascoltava molto i ragazzi era aperto alla scienza all'innovazione quindi grande personaggio è giusto che lo si ricordi oggi qui in questa sala a cui lui era affezionato perché Romolo era l'intellettuale organico del mondo contadino marsicano tutto quello che ha fatto Romolo nella politica nella cultura nel senato l'ha fatto per emancipare i contadini e penso che lui e la sua generazione hanno dato molto per emancipare la classe contadina marsicana e quindi dobbiamo rendere omaggio oggi è giusto che lo facciamo gli studenti presenti qui in questa sala riusciranno a capire lo spessore di queste tre persone? ma io penso di sì perché penso che i giovani sono poi sensibili a queste cose hanno interesse a capire la storia del loro territorio lontana dalle ideologie forse dobbiamo raccontare scevra da qualsiasi ideologia partendo dalla persona e non dall'ideologia giornalista primo di Nicola si occupa di Gianni Corbi si occupa è un modo di dire sicuramente inesatto scorretto perché Gianni Corbi è un altro di quelli che nella marsica ha lasciato un solco importante ha lasciato segni importanti e questa manifestazione e le persone che sono qui oggi dimostrano il contributo profondo che la famiglia Corbi ha dato anche alla storia di Avezzano Gianni è stato innanzitutto un grande italiano ha partecipato giovanissimo alla resistenza dopodiché si è come dire ha scelto il giornalismo ha fatto del giornalismo la sua ragione di vita ed è stato anche in questo campo un grandissimo giornalista una persona veramente illustre è stato direttore dell'Espresso che non era a quei tempi un giornale normale era credo senza esagerare un tempio è stato un tempio del giornalismo ha fatto la storia d'Italia e la cosa particolare assolutamente importante io credo in un periodo in cui si perdono riferimenti ai valori è che Gianni nonostante queste sue attività questo girare continuo il mondo in un universo diciamo politico e sociale del tutto diverso con l'Abruzzo e con Avezzano ha sempre conservato un legame profondo ha coltivato queste sue radici e credo che questa manifestazione gli rende appunto un giusto omaggio concludiamo col professor Massimiliano Capodacqua per parlare un attimo di Vittoriano Esposito altro colosso della letteratura marsicana cioè un colosso marsicano della letteratura ma non soltanto letteratura marsicana allora chi era e che cosa ha lasciato Vittoriano Esposito Vittoriano Esposito era innanzitutto un grande è stato un grande insegnante amatissimo da tutti i suoi studenti che sono stati generazioni e poi ha trovato un modo di esercitare una una critica secondo me qua nella Marsica ha inventato ha inventato il gesto della critica nel senso che a Vittoriano Esposito sono ricorsi tutti grande attività conosciuta anche a livello internazionale conferenziere un grande divulgatore dell'opera di Ignazio Silone ma di tanti tanti altri che si cimentano con la scrittura con la poesia con la letteratura è una figura ripeto amata con una umanità tutta tutta sua particolare nella sua grandissima umiltà e nella sua estesissima cultura è stata una figura assolutamente di primo piano per Avezzano quindi questa intitolazione questa piazzetta e piazza d'Orlonia penso sia più che dovuta proprio un atto dovuto da parte dell'amministrazione una cosa che darà modo agli avezzanesi che passeggeranno in piazza d'Orlonia di ricordare questo grande personaggio della nostra cultura del nostro territorio e della nostra gente presente anche il sindaco di Fangrazia una giornata particolare dopo aver intitolato un busto a Camillo Corradini in piazza Risorgimento questa volta altri tre importanti personaggi qui in piazza d'Orlonia un'operazione che vi rende merito perché insomma sono tre personaggi illustri importanti abbiamo anche messo il busto dell'avvocato Buccini davanti al tribunale e stiamo cercando chiaramente di dimostrare che la città di Avezzano non è solo è tutta la Marsica non sono solo grandi lavoratori ma anche c'è tanta tanta cultura tanti personaggi che hanno reso veramente illustre il territorio marsicano a livello nazionale e internazionale questi tre personaggi diciamo sono l'orgoglio della Marsica tra chiaramente i personaggi della città sia Vittoriano Esposito come letterate sia Gianni Corbi come giornalista e sia Romolo Liberale come scrittore poeta sindacalista politico che veramente hanno toccato un percorso particolare del dopoguerra e di qualche anno fa e hanno lasciato il segno questo segno deve essere riconosciuto e deve essere tramandato ai tanti giovani che oggi sono presenti proprio perché dimostreremo nel parco dei letterati i tre slarghi che saranno proprio intitolati a loro e quindi penso che sia una cosa che faccia bene alla buona città e alla buona Marsica noi stiamo lavorando per questo perché vogliamo sempre tenere molto unita la Marsica con Avezzano e fare in modo che i personaggi vengano ricordati per quello che sono e per quello che hanno fatto